Il secondo weekend di Natale a Monbaroccio con presenze di visitatori da tutta Italia a segnare il passo degli arrivi i tanti pullman che fanno registrare un numero sempre crescente ma anche i visitatori provenienti dai luoghi limitrofi assicurano come ogni anno un buon flusso di gente durante tutto il fine settimana A riscuotere sempre un grande successo ed acclamazione la caratteristica di questo storico mercatino che lo ha sempre distinto dagli altri ovvero la magica nevicata in piazza che vede sempre negli orari previsti una piazza gremita di gente con il naso all'insù nell'attesa dei fiocchi di neve soddisfazione ed orgoglio per il risultato centrato anche in questa edizione da parte del presidente della Proloco Damiano Bartocetti È sempre una grande emozione poi vedere arrivare così tanti turisti oggi pomeriggio veramente il nostro borgo è stato invaso da tanti turisti, da tanti bambini una grandissima soddisfazione non nascondo che sono anche tanto tanto emozionato perché ecco proprio qui siamo nel fulcro dove i volontari lavorano e si impegnano ogni giorno e oggi vedere così tanti turisti, così tanta gente contenta, soddisfatta non può che renderci orgogliosi Quest'anno è da registrare rispetto alle passate edizioni un maggior coinvolgimento del corso principale con quasi tutti i locali aperti e diverse saracinesche alzate che ospitano paesaggi e scorsi suggestivi sempre a tema natalizio che vengono utilizzati dai vari visitatori per una foto ricordo di sicuro effetto scenico da mandare a parenti ed amici lontani per suscitare un po' di invidia ma anche invitarli a visitare quello che è diventato il vero punto di riferimento per il centro Italia in tema mercatini natalizi Abbiamo dei gruppi di lavoro che collaborano e collaborando, lavorando insieme si possono ottenere risultati ma soprattutto vedere che la promozione turistica, commerciale, il lavoro si lega alla cultura, ai nostri musei, il museo della città cotadina, dell'arte sacra in modo tale che chi viene a Monbaroccio si porta a caso un ricordo nel cuore e nella mente di tutto un percorso promozionale, culturale, turistico per me è una grandissima, grandissima soddisfazione Appuntamento con Natale a Monbaroccio si rinnova quindi quest'ultimo fine settimana il prossimo 7-8 dicembre con un calendario pieno di iniziative in particolare sabato con la cena di Babbo Natale su prenotazione e con posti limitati ma si prosegue sempre con la magica nevicata ed il laboratorio della pasticceria di Babbo Natale e tanto altro ancora